Musica Arrestati dai carabinieri gli autori dell'agguato nei confronti di un 56enne avvenuto martedì mattina in via Wagner a Seregno. Si tratta di due fratelli di origini calabresi di 28 e 48 anni, residenti in Brianza. Sono accusati di tentato omicidio in concorso e porto illegale di arma da sparo. I militari della compagnia di Seregno e del nucleo investigativo del comando provinciale sono risaliti a loro al termine di ininterrotte indagini coordinate dalla procura di Monza. I due arrestati sono commercianti di materiali ferrosi, uno di loro a precedenti per reati contro il patrimonio. A bordo di un furgone Iveco Daily, lanciato ad alta velocità nel centro cittadino, hanno esploso una decina di colpi d'arma da fuoco verso la Fiat Punto, con a bordo il 56enne, ferito alla schiena in modo non grave, e dei suoi figli di 29 e 31 anni, anche loro di origini calabresi e domiciliati in Brianza. Gli indagati stavano per fuggire. Per questo, spiegano i carabinieri, si è reso necessario l'arresto. Sono stati trovati a Cesano Maderno, nell'abitazione di una conoscente. 22 militari dell'arma hanno cinturato l'appartamento e fatto irruzione, fermando gli indagati ed evitando che scappassero. Nell'abitazione sono stati trovati e sequestrati quasi 8 mila euro in contanti, presumibilmente raccolti per affrontare la fuga. I fermati sono stati portati su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Monza. Arrestato per rapina, ha beneficiato degli arresti domiciliari, ma non ha di nuovo rispettato le prescrizioni del giudice ed è tornato in carcere. Protagonista un 23enne ben noto alle cronache locali. Nel settembre del 2022, infatti, insieme a una coetanea, aveva rapinato dei passanti alla grate. Con il volto nascosto da un passamontagna, pistola in pugno, non si erano fatti nessuno scrupolo a puntare l'arma. Ti sparo, dammi soldi. Prima avevano preso di mira una coppia all'esterno di una pizzeria, poi fuori dall'oratorio due uomini appartenenti a un coro, infine tre amici in un parcheggio. Scattate le ricerche, i carabinieri avevano trovati due rapinatori nascosti in una scuola in un angolo poco illuminato. Per loro erano subito scattate le manette. Il ragazzo è finito ora nuovamente in carcere, grazie ai carabinieri di Agrate, che per l'ennesima volta lo hanno sorpreso a violare il provvedimento cautelare. Dopo l'arresto di settembre, aveva ottenuto a ottobre il beneficio dei domiciliari, ma a gennaio 2023 era stato arrestato dai carabinieri per aver violato le prescrizioni. Per lui si erano riaperte le porte del carcere. A maggio aveva ottenuto nuovamente i domiciliari, ma anche stavolta ci è rimasto poco. Ha continuato a violare le regole imposte dal giudice per le indagini preliminari di Monza. Così, il 13 luglio è tornato di nuovo in cella. All'angolo tra via Bosisio e via Prampolini, nel quartiere Libertà di Monza, è stata inaugurata una nuova area da quasi 25.000 metri quadrati che risponde a esigenze viabilistiche di parcheggi e soprattutto di verde. Perché il centro della riqualificazione della zona è proprio il nuovo parco della Gallarana, un'ampia area verde recintata che contiene 121 alberi già posati e altri in arrivo a fine estate, uno spazio per i giochi dedicati ai bambini, un tratto della nuova pista ciclabile di circa 500 metri e un futuro punto di ristoro. Finalmente un parco al centro di un quartiere, il parco Gallarana, che diventerà un luogo di socialità dove potranno giocare i bambini, dove potranno trovarsi le persone, visto che ci sarà un luogo che diventerà una struttura sostanzialmente ristorativa, un piccolo bar, vi dicendo, che andremo in concessione. Abbiamo una nuova viabilità interna al quartiere che sarà sicuramente utile per connettere la parte di via Prampolini con la via Gallarana. È un grande risultato che ci aspettavamo da tanti anni e oggi finalmente lo inauguriamo. Realizzati anche una nuova area parcheggi da 77 posti e una rotatoria tra via Bosisio e via Prampolini, oltre ad essere stato installato un impianto di illuminazione pubblica con 66 nuovi pali e ad essere stata riqualificata via Guggiari con la riasfaltatura della strada, nuovi parcheggi e la creazione di un marciapiede sul lato ovest. Ma soprattutto la grande novità è il nuovo tratto stradale con illuminazione che da ora collega via Gallarana e via Bosisio-Prampolini, una via che è stata dedicata alla figura dell'artista monzese Pina Sacconaghi. Quando il Circolo Soroptimist ci ha fatto questa proposta abbiamo sicuramente accolto quest'idea, perché? Perché essere artiste negli anni 30, come hanno ricordato anche i familiari di Pina Sacconaghi, non era certo una cosa facile. Vi do solo questo dato. In Monza noi abbiamo 24 con oggi 25 vie intitolate a donne e abbiamo un 450 circa vie intitolate a uomini. Allora questo dato è interessante perché ci dice che davvero per affermare la nostra identità, quello che valiamo nel mondo della cultura, eccetera, dobbiamo davvero ancora sgomitare. Per me l'adozione è semplicemente un'opportunità immensamente speciale che non va sprecata. Simona Rivellini ha 22 anni, vive a Monza e la sua è la storia di una ragazza che appena nata è stata abbandonata in ospedale per poi essere adottata un mese dopo da quelli che sarebbero diventati la sua mamma e suo papà. Una storia che Simona ha vissuto profondamente, seguendo un percorso fatto di amore, ma anche sfide personali. Io ho avuto un'infanzia bellissima, ho sempre vissuto la mia adozione proprio come un più e mai come un meno, come qualcosa che mi distinguesse in negativo da tutte le altre persone. Nel corso degli anni mi sono ritrovata ad avere un po' di problemi fisici, in particolare un forte mal di stomaco che non se ne andava in alcun modo. Li abbiamo provate veramente tutte. La risposta che mi veniva sempre data dai medici, dai dottori era è perché tu hai scelto, stai scegliendo di non affrontare quella che è la tua storia. Io non mi ritrovavo, nel senso che per me la mia storia era qualcosa di bellissimo, di magico e che non mi avrebbe mai potuto fare del male. Un giorno io avevo iniziato a fare volontariato per un'associazione che tratta appunto di adozione e mi sono resa conto che effettivamente per poter essere adottati si deve essere stati anche abbandonati. Ed era una parte che io non avevo mai effettivamente guardato e di conseguenza affrontato. E un giorno sono tornata a casa e ho detto a mia mamma appunto che avevo compreso tutto questo, no? Una presa di coscienza che anticipa un'improvvisa novità nella vita di Simona, ormai 19enne. In quel momento lei mi ha detto guarda Simo in realtà ti devo dire una cosa, qualche mese fa ho trovato un annuncio online di quella che potrebbe essere tua mamma biologica. E da lì la mia storia è diventata una storia un po' più complicata, perché comunque se già è difficile avere a che fare con una famiglia, gestirne due è ancora un po' più complicato. Però sicuramente questo mi ha permesso di capire tante cose proprio del mondo adottivo, di come funziona questo mondo e di come funziono io. Una storia, la sua, che per Simona Rivellini è stata di ispirazione per un libro. Ti stavo aspettando così. È un libro informativo, quindi un po' per tutte le persone che vogliono conoscere che cos'è effettivamente l'adozione. E in particolare è per chi è stato adottato. Quindi io ho scritto e illustrato interamente questo libro nella speranza che possa dare molta libertà, molta consapevolezza e serenità nell'affrontare la propria storia. E come mi piace dire è un po' proprio come se con questo libro potessi letteralmente tenere per mano le persone, perché all'interno ci sono proprio degli esercizi che io stessa ho fatto e che con me hanno funzionato. E quindi pensare che altre persone possano farli mi fa sentire molto connessa a loro.